Arriba dall'America il termostato intelligente in grado di imparare le nostre abitudini casalinghe e impostare autonomamente il riscaldamento della casa. Si chiama Nest ed è un insieme di sensori e algoritmi in grado di capire quanto tempo è necessario per riscaldare l'ambiente alla temperatura definita e quando invece è meglio tenere spenti i termosifoni perché nessuno è in casa. Regolabile anche tramite smartphone è in grado di ottimizzare il riscaldamento e di programmare temperature diverse in diverse zone, fornendo anche il resoconto dei consumi energetici. Nest può essere anche integrato con altri elettrodomestici e accessori, può accendere le lampadine quando la casa è vuota per creare una presenza simulata oppure attivare le videocamere di sicurezza o modificare l'accensione programmata del riscaldamento in base alla posizione GPS degli smartphone collegati all'account dell'abitazione.